Scusa, adesso ci viene con me la chiamata. Allora, ma non ci state appunto di confezione? Sì, non è iniziata, non è iniziata. Ecco, ecco qua, davanti la feria al Breddo, la stessa martin o tibetano. Il carattere dipende dai giorni, ma se tu ovo. Particularità, un figlio, non si avvicina mai di abbaiare. Conti gioca con i cari più piccoli e con i bambini. È molto figlio, è molto sociabile. La cosa che mi piace è quella di quella di fare il pietro, della pubblicità, anche volente ligerato. Ma si arrabbia, avaria e non trasmette più Conduttore Cristian Gatti, proprietario Cristian Gatti Vediamo il punteggio 79, il punteggio di Brad, un applauso Brad, maschino tibetano, grazie Grazie Brad Numero 43, Snoopy, eccolo